A me ha dato molto fastidio quando l'inaugurazione dell'Expo si è cambiato, l'inno d'Italia, siamo pronti alla vita l'Italia chiamò, invece che siamo pronti alla morte l'Italia chiamò, perché non siamo pronti alla vita per la patria, essere pronti alla vita è un atto di sano egoismo, siamo pronti alla morte per la patria, cioè al sacrificio.